Buongiorno, bentrovati, buona domenica 31 luglio, oggi nel Rito Ambrosiano è l'ottava domenica dopo Pentecoste. Ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro Rito Ambrosiano, lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo il Signore Gesù nei suoi discorsi, ma andarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli, Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di nessuno, perché non guardi in faccia di alcuno. Dunque, di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose. Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tribuno, del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro e gli domandò loro questa immagine e l'iscrizione. Di chi sono? Gli risposero, di Cesare. Allora disse loro, rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. A queste parole rimasero meravigliati, lo lasciarono e se ne andarono. Parola del Signore. Siamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 22, quindi siamo verso la fine del Vangelo. Gesù è già entrato nella città santa, acclamato come Messia dalle folle, come il figlio di Davide, e sta insegnando, sta insegnando nel Tempio. E siccome il suo insegnamento è profondo, è alto e non riescono i suoi nemici a coglierlo in fallo in nessuna maniera, ecco che cercano collaborazione con gli erodiani, i partigiani del re Erode. Ed ecco che pongono a Gesù questa domanda, una domanda assai insidiosa. Dobbiamo o no? È lecito o no, secondo la legge di Dio, pagare il tributo a Cesare, cioè all'imperatore? Domanda insidiosa, certo, perché dire che è lecito secondo la legge di Dio vuol dire stare dalla parte dei sadducei, essere un collaborazionista. Dire che non è lecito era un'opinione in realtà diffusa tra molti ebrei, ma chiaramente un'opinione che portava alla ribellione e quindi a trovare un motivo di condanna a morte per Gesù. Gesù però è molto saggio e chiede di vedere la moneta del tributo. Ovviamente è una moneta romana e ecco che sulla moneta romana c'è l'immagine dell'imperatore, quindi di Cesare, era Tiberio. Ed ecco la risposta di Gesù, rendete a Cesare quello che di Cesare. C'è la sua immagine, c'è il suo nome, è sua, ma aggiunge rendete a Dio quello che di Dio. Ma che cosa è di Dio? Di Dio è l'uomo che è creato a immagine e somiglianza di Dio. Ecco allora che dobbiamo dare spazio. Gesù con queste parole crea una separazione, una distanza tra ciò che è dello Stato e ciò che è di Dio, ma non perché elimini il divanzo, lo mette al di sopra, perché crea uno spazio di libertà in cui ciascuno, nella libertà della sua coscienza ed insieme nel cammino di libertà della comunità e della Chiesa, può unirsi a Dio. La libertà della Chiesa e la libertà religiosa è fondata su queste parole di Cristo. Preghiamo perché possiamo veramente dare a Dio quello che è di Dio. Nel nostro mondo noi ci dimentichiamo di Dio e per questo siamo sempre meno liberi. Solo in Dio c'è la vera libertà. Affidiamoci anche all'intercessione di Sant'Ignazio che anche se non lo ricordiamo ufficialmente oggi è la sua festa che ha insegnato agli uomini a camminare nella libertà. Preghiamo gli uni per gli altri. Buona domenica, buona giornata, stielo dato Gesù Cristo.